ciao benvenute in un altro video di first impression quindi dei prodotti che provo sempre a tema viso in questo caso e che però ho un qualche campioncino, una bustina, due, tre e quindi che sono proprio first impression, prime impressioni però per potervene parlare intanto li ho uniti un po' ed iniziamo a parlarvene però prima vi ricordo di essere iscritti al mio canale e di lasciarmi un like se vi è piaciuto il video, se vi piacerà e un commentino se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me ma iniziamo subito a parlare del primo prodotto e si tratta di questo della Origins Ginzink, ultradatante, crema ultradatante, allora intanto ve la mostro perché avevo solo questo ed è questa, che è un esclusivo da Sephora ma ho segnato il prezzo 50 ml viene 25,90 euro, allora cosa dire di questa crema? Dice di essere ultradatante, ultra ricca, energizzante, io l'ho provata sì, ultra ricca non troppo, infatti io l'ho utilizzata alla sera e mi sono trovata bene perché basta poco per otto, si stende bene, non è troppo appiccicosa ed è quasi immediatamente ed alla mattina non mi trovo con la pelle unta, altra cosa il profumo di pompelmo cioè è fantastico, non persiste sulla pelle ma sulle mani sì durante l'applicazione ed è davvero ottimo allora andiamo avanti col secondo prodotto ed è questo qui di Bottega Verde linfa di vite, trattamento viso giorno e notte, riattivatore di giovinezza con linfa di vite e fitto complesso da uva rossa di tenuta Massaini e vai, è qualcos'altro no? 95% di ingredienti di origine naturale e avevo due campioni, è questo qui, che è la nuova linea e ho segnato il prezzo come sempre, 50 ml, prezzo di listino 45,99 ma in promozione adesso a 22,99 quindi occhio alle promozioni allora trattamento viso giorno e notte riattivatore dunque io l'ho applicato solamente alla sera perché per il giorno è un pochino troppo corposo però alla sera si stende bene, non so se voi vedete il riflesso ma c'è un capello ecco perfetto, si stende bene, si applica bene, assolve velocemente, lascia la pelle idratata e quindi sì, mi è piaciuto, giorno e notte sì, per la notte in questo caso a me è piaciuto ma comunque noi, aiuto, andiamo avanti e questo è alquanto particolare, anche solo per come è fatto è il Clinique ID, Dramatical Difference, quindi quell'idratante, l'oluzione idratante più il booster, quello che avevo io era quello antifatica allora, tutto questo parapappero, ma alla fine la confezione era questo vi ho fatto la clip per farvelo vedere perché era fantastico allora, l'idea di questo Clinique ID è effettivamente quello di avere una base con, scusate, la base a cui aggiungere il booster che preferite leggendo qua dovrebbe esserci quello per la grana non uniforme, quello antifatica, quello che voglio oppure quello macchie di scromie, oppure linee e rughe c'erano tutti questi allora, come vi ho detto, era questo si apre la confezione da qui, era indiviso la base con il booster e per prelevarlo andava spinto in su il booster poi si mescolava un po' e si prendeva la crema comunque vi ho fatto la clip perché è più semplice prezzi, perché per i prezzi allora, la cosa della Clinique è il fatto che la base potete scegliere la base che preferite quindi quella in siero, quella in crema, quella più idratante, quella più ricca e il booster a parte e li potete unire quindi avete la crema perfetta e il booster più adatto i prezzi che mi sono segnata è la base, siamo su ah ecco, Clinique o Sephora quindi sia sito internet di Clinique che Sephora hanno gli stessi prezzi e la base 115 ml viene 34,39 il booster antifatica, ad esempio perché è quello che avevo io 10 ml viene 14,14 quindi completo 53 euro il fatto è che l'ho trovato su Amazon anche e quello già completo quindi non i pezzi a parte ma quello completo viene 48 euro quindi si risparmia qualcosina diciamo che sicuramente finirà prima il booster piuttosto che la crema quindi anche lì è da vedere un attimo poi si può tenere la stessa base e cambiare la crema e rifacciamo la stessa base e poi cambiare il booster in base se abbiamo più preferenza di uno o dell'altro ok, perché con queste luci sembra meravigliosamente unta che invece sono bella opaca? i misteri i misteri delle ring light e quindi è da vedere un attimo comunque, questo era il prodotto ormai ve l'ho mostrato e stramostrato e cosa dire? allora, intanto che non sarebbe quello più adatto a me io avrei scelto altro però mi piace questa idea la crema è abbastanza ricca quindi l'ho utilizzata alla sera però basta poco palotto si stende bene assolve velocemente e alla mattina mi trovavo la pelle bella idratata altri effetti sinceramente non ne ho trovati però effettivamente è un'emulsione idratante con il booster antifatica quindi secondo me ha fatto il suo lavoro c'è da vedere qualcosa magari più adatto alle proprie esigenze ma noi intanto andiamo avanti e andiamo avanti con questa crema di Diego Dalla Palma un My Lift crema antietà levigante quella che avevo io era un 2ml e cerco di leggere di cosa c'è scritto se mai ci riuscirò per una potente idratazione ecco per la sua potente azione crea un leggero e temporaneo pizzicore subito dopo l'applicazione quindi dovrebbe essere una crema antietà levigante effetto lifting ve la mostro che è questa allora prezzo 50 ml 52,90 è un po' cara allora è una crema che è abbastanza ricca io l'applico alla sera quindi abbastanza ricca ma vedete il clip si stende bene assolve velocemente e mi lascia la pelle abbastanza idratata diciamo che però nella stagione calda sicuramente tenderebbe a lucidarmela anche alla sera perché è un po' ricca il leggero effetto pizzicore io non l'ho notato ma non ho notato neanche l'effetto antietà non ho notato proprio niente se non questo super potere idratante questa si fin troppo sulla mia pelle mista e per me per una crema idratante è un prezzo davvero tanto alto troppo ma comunque sia andiamo avanti con il prossimo e se parlavamo di prodotti cari bene ora veniamo con l'isalaran questo qua è ypure o aipure è un siero dice ferme te e quindi ferme te e culture quindi rassodante e antirughe ok dunque questo è proprio un siero ve lo faccio vedere ok e andiamo al prezzo ah sì effettivamente i shape siero rassodante allora prezzo siete sedute ok 30 ml 98 euro e 50 ma tranquille perché c'è anche la ricarica quindi per non prendere tutta la confezione che è bellissima ma c'è anche la ricarica da inserire e costa solamente sempre 30 ml 83 euro e 50 solamente perché la ricarica ovviamente sto scherzando perché è un marchio che si paga quindi isalaran è un marchio che costa allora cosa dirvi intanto che è un siero acquoso proprio leggerissimo quasi in essenza applicata la mattina tranquillamente si stende e si assorbe immediatamente ottimo anche come base trucco anche sulla mia pelle mista non da nessun tipo di problema il profumo è nullo quindi altra cosa fantastica idratante non mi lucida durante il giorno e tutto quanto quello che volete è perfetto mi è piaciuto tanto sì ma io per questo prezzo voglio che faccia i miracoli e invece non è che li fa quindi eviterei cioè eviterei è buono ma per questo prezzo cioè ragazzi con tanto meno trovate dei seri che comunque funzionano uguale o meglio secondo me si può scegliere di meglio e andiamo con l'ultima first impression del momento e in questo caso devo premettere che non è quello adatto al mio tipo di pelle comunque della bottega verde il collagen supreme crema viso antirugole si già elasticizzante ormai non so più parlare effetto pelle nuova allora per pelli da normali a secche ecco perché non è adatto il mio tipo di pelle allora prima di tutto il prezzo 50 ml 37,99 ma in promozione a 19,99 la confezione è questa e cosa dire bella texture è molto ricca quindi io l'applico alla sera si stende facilmente assorbe abbastanza velocemente e la mattina non mi trovo con la pelle unta però è un po' ricca ovviamente per la pelle secca quindi penso che per la stagione calda anche di sera tenderebbe ad appesantirmela troppo e se me l'appesantisce troppo mi escono le imperfezioni ed è una cosa che non vogliamo però non posso dire che non mi piace la crema non mi piace la formulazione per pelli secche avendocela io mista e quindi promozione sì ma niente di più per ovvi motivi allora queste erano tutte le feste impression del periodo voglio sapere se avete provato qualcuno di questi prodotti come siete trovate se qualcuno di questi vi incuriosisce più degli altri sono sicura che vi incuriosisce tantissimo il siero del Insaloran sicuramente salite lì che lo prenderete subito se lo prendete bravissime voi ed vuol dire che potete io saprete come no anche no grazie e comunque noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao